Chi si aspetta un pezzo che parla di basket con tanto di numeri e statistiche, presenze, canestre e medaglie, resterà deluso. Primo, perché da queste parti ci sono intenditori ben più ferrati di me. Secondo, perché descrivere Paolo Vittori come un giocatore leggendario è giusto, sacrosanto, ma nello stesso tempo limitativo. Lo sanno bene Sacchetti, Marzorati, Recalcati, Bulgeroni e tutte le altre mitiche bandiere riunite in Camera di Commercio per il libro che Vittori ha dato alle stampe, incalzato, sfidato, assillato da chi lo spingeva a mettere in nero su bianco una tonnellata di ricordi, aneddoti, foto, confidenze, gioie, delusioni, amicizie, strappi, conquiste, rinunce, trionfi, ma anche bombe e non in senso metaforico. Io ho sentito il nome, nel 1938, quando avevo sentito che il nome era una bella cosa, perché non avevano i miei, 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 non avevano i miei. Tra le pagine di Nogavevo Premura, titolo beffardo dell'inossidabile campione goriziano, c'è fatica e c'è sacrificio. Ci sono uomini incensati e altri, criticati senza sconti, come coach Nikolic. Una persona che ti dà la parola e non la mantiene, per me non esiste. Insomma, ci sono cuore, muscoli, testa, protagonisti di una storia che non parla solo di sport giocato, ma anche di sport lanciato, valorizzato, sdoganato, unificato e nobilitato in quello che Gianni Chiapparo giustamente definisce il maggior successo di Paolo Vittori, il trofeo Garbosi, che quest'anno torna in scena dal 15 al 18 aprile con un plotone di ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. Un evento autenticamente pasquale, perché sa di rinascita e perché si ripresenta bello, giovane, gagliardo, impastato della stessa umanità di cui è fatto questo grande gigante gentile.